Allora, facciamo così, il problema è tante persone insieme. Se mi ricordo bene, il Natale ha quattro domeniche che portano al Natale, no? Ognuna con una candelina. Allora, non è che noi dobbiamo fare per forza quest'anno 25 persone il giorno di Natale. Vogliamo vedere 25 persone? Allora, si prende e si va a trovare il primo domenica o il primo martedì, e si va a trovare i cugini, qua in due si va con la mascherina, si saluta, si porta il pacchettino e si va via. La domenica dopo si va a trovare... Cioè, bisogna avere la mente elastica, ma non elastica per fregare il figlio. Il Natale diffuso, facciamo. Il Natale diffuso, ecco, la mente elastica per cercare di contemperare le nostre necessità affettive, no? con quelle che sono di una pandemia in atto. Me lo date un attimo?